Scoprirsi femminista può essere un passo importante da intraprendere per molte donne ancora oggi, soprattutto quando le cifre contenute nel rapporto EURES su femminicidio e violenza di genere in Italia parlano di 142 casi di donne uccise nel 2018, un dato in crescita. Un paese dove i femminicidi si registrano per la maggioranza nelle mura di casa, nell'85% dei casi, ma la regione Abruzzo è una delle regioni con più servizi per combattere il fenomeno, con 12 centri antiviolenza e 4 case rifugio. Un motivo per parlarne è stato anche l'approssimarsi della giornata della violenza sulle donne, che si festeggia in tutto il mondo il 25 novembre dal 1999. Raccogliamo sicuramente testimonianze di situazioni molto molto delicate anche all'interno dei nuclei familiari e lì è importante la capacità di ascolto, ma soprattutto ciò che fa la differenza è l'indicazione di dove andare, di dove accompagnarle. Per l'occasione presso il polo fermi di Sulmona è stata invitata Eleonora De Nardis, giornalista e autrice del libro Sei Mia, un amore violento, il diario di Elisabetta, una persona in gamba, socievole, con una carriera, ma che ha scelto l'uomo sbagliato diventando vittima di un amore violento, ma che alla fine, armandosi di coraggio, rivoluziona se stessa e riprende in mano il proprio destino a testa alta. Ma ci si può tutelare riconoscendo i segnali all'interno del rapporto di coppia. E cosa consigli allora a queste donne che vivono questa esperienza? Sicuramente comunque di denunciare, ma prima ancora di non accettare questo isolamento, ecco, di confrontarsi con altre persone, altre donne, raccontarsi, confidarsi, non provare vergogna, non provare pudore, non provare terrore, perché queste cose purtroppo possono accadere a chiunque, non sentirsi sconfitte e non sentirsi fallite, perché da un fallimento ci si può rimettere in piedi. Un momento di riflessione e discussione a cui hanno partecipato anche alcune delle rappresentanti del Centro Antiviolenza, la libellula e donna, gestite entrambe dalla Horizon Service, che dal 2018 hanno accolto 326 donne, 76% di nazionalità italiana e con titolo di studio medio-alto. Noi non diamo mai dei consigli, noi diamo alle donne delle informazioni, le sosteniamo, le aiutiamo nel riconoscimento di che cos'è la violenza, attraverso una serie di consulenze, di tipo psicosociale e delle informazioni di tipo legale. Non facciamo mai niente al posto loro, aspettiamo, stiamo indietro, ma comunque le accogliamo sempre, non le portiamo mai alla denuncia, facciamo in modo che la donna maturi l'idea eventualmente di fare una denuncia. Oltre al servizio di supporto del Centro Antiviolenza, a cui si rivolgono un numero sempre maggiori di utenti, la cooperativa gestisce anche una casa rifugio.